il concetto di stato d'eccezione che trova la sua celebrità e nel testo di carl schmidt titolato teologia politica il concetto di haus namethustan di stato di eccezione è un concetto giuridico cioè è quel punto in cui l'ordine giuridico conosce il proprio limite originario di essere fondato sul nulla e esiste un rapporto diritto inteso come ordine e il fatto che il diritto è posto attraverso la violenza cioè la violenza politica e che il diritto conserva dentro di sé questo suo questa sua origine questo suo essere stato posto qualche cosa di abbastanza simile era stato detto da walter benjamin nel saggio per la critica della violenza dove anche lì si associava con chiarezza la la forma giuridica e la violenza la violenza presentata come necessità del sacrificio un'altra derivazione dal che che è presente che nasce da dal testo di benjamin cioè il concetto di nuda vita benjamin sostiene che tutta la struttura giuridico politica moderna che si vuole come struttura di protezione della vita è invece una struttura che spoglia la vita la rende nuda la spoglia di ogni qualità e la considera semplicemente qualche cosa di biologico la nuda vita e dunque la nuda vita è il prodotto della sovranità decidente la sovranità cioè la violenza che pone il diritto mentre pone il diritto trasforma la vita in nuda vita bios in zoe secondo agama ora potrà produrre una vita priva di legami una vita slegata una vita dissolta dissoluta cioè una società fatta di individui tutti alla mercè come ciascuno come singolo del potere sovrano decisione è questo la sovranità taglia le apparente di legame che la società e gli individui in essa avevano creati e riporta gli individui alla condizione moderna originaria cioè individui che chiedono e non possono essere altro che chiedono di vivere e non possono essere altro che trattati come esseri ideologici dei quali si può disporre o allevandoli mantenendoli in vita o consegnandoli alla morte in vario modo consegnandoli al carnefice oppure lasciandoli morire ecco la società dissolta slegata proprio perché il contagio ciò che mette gli uni a contatto con gli altri in realtà è l'occasione perché la sovranità tolga i contatti e riporti la società al suo essere sostanzialmente un deserto costituito di atomi di granelli di sabbia ora capite che questa è una posizione antiliberale cioè secondo i liberali la società non è non può essere questa società non è così infinitamente plastica davanti al potere sovrano resiste perché prima del potere ci sono i limiti del potere perché prima della sovranità ci sono i diritti perché prima della forza dello stato c'è la forza della società tutto ciò tradotto nella logica giuridica è costituzionalismo versus assolutismo e allora qualcuno nel caso specifico giorgio gamben ha detto bene abbiamo visto che si è crea è stato creato un caso d'eccezione che come tutti i casi d'eccezione esprime la verità della norma cioè la dell'ordinamento liberale democratico viene finalmente la luce in questa circostanza estrema che è un concetto lo stato d'eccezione è un concetto difficilmente maneggiabile arriva al paradosso il potere che non è ordine ma è essenzialmente disordine bene tutto ciò che nasce contro il liberalismo tutto ciò che tratta i liberali come dei degli inconsapevoli questo qui e schmidt è fondamentale cioè chi sono i liberali sono quelli che non capiscono la teologia politica bene tutto ciò è stato tranquillamente direi prosaicamente posto in essere dentro un ordinamento come il nostro che sotto il profilo della classificazione è sicuramente un ordinamento liberale democratico è stato posto in essere con estrema semplicità facilità e direi a teoreticità dai nostri governanti la sovranità è controllo dello spazio direi che se la pandemia è la globalizzazione cioè qualche cosa che non conosce confini è stata combattuta attraverso una protezione confinaria un protezionismo spaziale attraverso il confinamento primo punto secondo punto è vero abbiamo combattuto è stata combattuta la pandemia attraverso con lo strumento della sovranità non solo attraverso lo strumento della solita spaziale ma anche attraverso lo strumento della sovranità capace di destrutturare una società e di ristrutturare è quello che è avvenuto il processo di dissoluzione della complessità della società è stato posto in essere del neoliberismo e il neoliberismo che ha nel proprio dna la individualizzazione della società e in ogni caso prima della pandemia benché il processo di dissoluzione della società fosse parecchio avanzato cioè per dissoluzione intendo il fatto che la società da molto tempo fa fatica a produrre ordine da se stessa a produrre forme di aggregazione minimamente stabile i partiti sono scomparsi sindacati sono in agonia da tempo le forme associative sono effinere sostanzialmente il neoliberismo vuole una società di individui non una società non dico di ceti ma una società di raggruppamenti in ogni caso esisteva una complessità della società questa complessità dai dalla pandemia e della reazione politica alla pandemia la reazione sovrana questa complessità è stata è stata al tempo stesso rasa al suolo e complicata rasa al suolo perché improvvisamente la società non è stata più composta di professori e studenti di imprenditori di lavoratori di associazioni culturali cioè tutto ciò che era una società ma si è semplificata brutalmente i legami sociali sono stati tagliati non ci si poteva incontrare non ci si poteva mettere insieme e la definizione della società veniva posta attraverso un atto sovrano nella società era divisa in non ammalati portatori sani ammalati con pochi sintomi ammalati con sintomi gravi che devono essere portati all'ospedale ammalati con sintomi gravissimi che devono essere messi in sotto sotto respiratore